Fermate al casello autostradale con più di mezzo chilo di cocaina in macchina. Finiscono nei guai due ragazzi di 32 e 36 anni che la notte scorsa sono state fermate dalle fiamme gialle del nucleo di polizia economica finanziaria di Pesaro nell'ambito di un mirato controllo all'uscita di Fano della 14. Qui attorno alle 22.30 i militari hanno fermato la vettura in questione in quanto procedeva a velocità sostenuta ben oltre i limiti previsti dal codice stradale. Effettuato uno specifico controllo degli occupanti è emerso che una delle due donne a bordo aveva precedenti in materia di sostanze stupefacenti. Si è dunque deciso di perquisire il veicolo con l'ausilio dell'unità cinofila e allora il rifiuto del cane Alex ha segnalato come l'autovettura risultasse inquinata in diversi punti e che anche le due donne risultavano contaminate da contatto con sostanze stupefacenti. Durante la fase di controlli le due ragazze hanno in vano tentato di disfarsi di un panetto di cellofan gettandolo dietro una recinzione. Recuperato l'involucro si è appurato che questo conteneva cocaina per ben 550 grammi come accertato dai controlli di rito. Per le due donne sono scattate le manette e la reclusione nel carcere di pesaro.